Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con Cronache e Commenti, la trasmissione che Teletruria dedica all'attività del Consiglio regionale. Subito i titoli degli argomenti che affronteremo all'interno di questa puntata. Misure anti-Covid e vaccini. Sostegno psicologico approvata all'unanimità risoluzione per implementare i servizi per i cittadini. Artea approvato il bilancio preventivo 2021. Mozione su Banca Etruria per chiedere al Governo azioni mirate verso la Commissione europea. La sensazione è che qualcosa si stia muovendo a Roma grazie agli interventi molto determinati del Presidente Draghi e conseguentemente nelle prossime settimane la situazione della trasmissione di vaccini possa avere quantitativi maggiori. Poi c'è la bella notizia su Johnson & Johnson che è ormai pronta e quindi già l'avere un quarto vaccino è importante. Ho sollecitato fortemente il sistema delle ASL a attivare e a mettere in comunicazione i super fragili con le rispettive ASL dove sono catalogati dal dializzato al cardiopatico che possano dove svolgono l'attività di prossimità con il medico nei singoli ospedali trovare il riferimento per poter fare la loro vaccinazione e ci stanno lavorando i programmatori per poter aiutare il sistema dei super fragili metteremo anche un sistema con un sito nel nostro info covid di pre prenotazione ovvero un manifestarsi da parte dei super fragili cosicché noi abbiamo la possibilità di codificarli e quindi diventiamo anche noi elemento di sollecitazione se dalla ASL non hanno trovato il contatto direttamente con i super fragili per poterlo fissare l'appuntamento e consentirgli la somministrazione del vaccino. È necessario innanzitutto avere la possibilità di vaccinare le persone e quindi dei vaccini quindi questo è il primo impegno che la regione deve portare avanti acquisire vaccini. Devo anche riconoscere che la regione toscana dal punto di vista delle somministrazioni per i vaccini che ha in casa è la più attiva nel senso che ha vaccinato veramente tanto diciamo fino a numeri che si avvicinano al 100% delle possibilità e questo va riconosciuto. Dall'altro però dobbiamo dire che ci sono dei dati che sono un po' meno confortanti perché se si va a vedere le somministrazioni ai vaccini fatti agli over 80 alle categorie più fragili noi siamo la penultima regione in Italia con soltanto il 10% dei vaccinati over 80 e anche sulle categorie più fragili che anche quella è stata una delle iniziative che noi abbiamo portato avanti per primi ma non è che ci interessa dire questo ci interessa dire che la regione questo crediamo l'abbia recepito sta portando avanti questo tipo di percorso anche nei confronti dei più fragili in particolare dei disabili e anche dei chi se ne prende cura dei disabili perché è chiaro che se una persona che si prende cura di un disabile si ammala di covid poi il disabile del disabile che se ne prende cura quindi è necessario vaccinare sia disabili sia i caregiver cioè coloro che se ne prendono cura e dall'altro noi avevamo anche proposto di trasferire i vaccini AstraZeneca proprio nei confronti di questi amministrativi che magari sono stati vaccinati col Pfizer e spostare i vaccini Pfizer per gli over 80. È assolutamente importante tenere sotto controllo l'andamento della curva pandemica e poter intervenire laddove ci sono delle situazioni che mostrano un innalzamento quindi l'individuazione di zone rosse puntuali circoscritte possono servire per limitare contenere la diffusione del virus intervenire con un tracciamento immediato in quelle realtà e preservare possibilmente invece dall'andare in zona rossa generalizzata per tutta la regione quindi credo che questo monitoraggio molto attento che stia facendo la struttura che stia facendo l'assessorato in generale sia veramente importante credo che sia sotto gli occhi di tutti che la situazione è ancora una situazione critica e che ogni provvedimento che viene preso viene preso per cercare di non aggravare la situazione che potrebbe dopo creare maggiori chiusure maggiori restrizioni rispetto a quelle che invece possono risultare necessarie se si interviene subito e in maniera puntuale. Siamo partiti da un'audizione del garante dell'infanzia e della dottoressa Gulino che è il presidente dell'ordine degli psicologi della Toscana per farci dare e farci raccontare da loro con un po' di dati quella che è la situazione della nostra regione in particolar modo per i ragazzi per i minori evidenziando come oltre il 70 per cento nel periodo del lockdown ha sviluppato disturbi o disagi legati all'epidemia covid come oltre il 22 per cento ha manifestato difficoltà legate al cibo insomma tante forme di disagio ovviamente in particolar modo per i minori ma che poi riguardano tutta la popolazione e allora siccome il compito del sistema sanitario è quello di prendere in carico a 360 gradi quello che è la salute dei cittadini quindi il benessere dei cittadini e sappiamo come la presa in carico psicologica riduca anche poi l'accesso e il consumo di prestazioni sanitarie e soprattutto il consumo anche di farmaci noi diciamo che ormai soprattutto in questa fase pandemica e dopo la fase pandemica per superare i danni derivanti è necessario implementare i punti dove il cittadino può trovare una presa in carico del proprio stato di disagio psicologico e chiediamo che quindi questo sia c'è una proposta dell'ordine dei psicologi sulle case della salute quindi sui servizi territoriali di psicologia chiediamo che questo possa avvenire intanto con una forma di sperimentazione diffusa che poi possa essere estesa tutta la regione. Sono molto soddisfatto del fatto che il Consiglio regionale abbia accolto la nostra proposta ringrazio il Presidente Sostegni l'idea che si desse un servizio aggiuntivo ai ragazzi ai bambini ai preadolescenti agli adolescenti da parte dei servizi del servizio sanitario a livello locale è importante le aziende sanitarie dovranno implementare la loro offerta di servizi lo dovranno fare la medicina generale dovrà fare le case della salute cioè il sistema sanitario a livello territoriale in termini di prevenzione deve dare un aiuto forte ai ragazzi molti adolescenti rinchiusi nelle loro abitazioni costretti alla didattica a distanza stanno vivendo sulla propria persona un dramma quello dell'isolamento che determina paure che determina insicurezze che allo stesso tempo può determinare delle situazioni che se non recuperate o accompagnate potrebbero essere nei prossimi mesi oggettivamente un limite alla loro giovinezza la loro socialità la loro relazione con gli altri quindi questo percorso va accompagnato è senso di responsabilità assumersi questo elemento non si tratta di una questione di carattere sanitario e si tratta di una questione di carattere sociale che in questo momento deve vedere il Consiglio regionale vicino alle famiglie vicino ai ragazzi ma però vogliamo vedere che questa risoluzione oggi approvata e ringrazio il Consiglio venga poi attuata io monitorò in maniera costante il fatto monitorò in maniera costante il fatto che venga poi dato seguito a quanto oggi il Consiglio regionale ha chiesto di fare serve un servizio aggiuntivo deve essere pubblico può integrarsi e convenzionarsi con sistemi privati c'è una grande professione all'esterno che deve accompagnare i ragazzi prima ancora che questa dimensione diventano questioni di carattere sanitario è inevitabile ed è sotto gli occhi di tutti noi genitori che i ragazzi in questo dopo un anno ormai è un anno di chiusure e restrizioni stanno soffrendo moltissimo per l'assenza di una socialità fisica reale con i loro compagni di scuola con gli amici e questo li sta penalizzando molto io credo che sia non soltanto necessario ma doveroso per il sistema sanitario farsi carico anche di questo problema perché se da una parte dobbiamo cercare di tutelare il più possibile dal punto di vista della salute quindi dall'evitare il contagio non possiamo però dall'altra parte non farci carico di quello che adesso è un disagio che in alcuni casi l'abbiamo visto con dei casi di cronaca sta diventando un vero allarme sociale stiamo tutti vedendo casi di giovani che si riuniscono anche in maniera poco attenta poco accorta addirittura alcune volte organizzano online risse oppure eventi vandalici nelle grandi città dobbiamo veramente tenere in considerazione la loro salute e non solo quella fisica abbiamo votato convintamente a questa nuova proposta di risoluzione che prevede un sostegno psicologico per le persone che in questo momento sono in difficoltà e dire persone in difficoltà significa non escludere nessuno perché tutti quanti noi siamo in estrema difficoltà difficoltà economica difficoltà di relazione difficoltà di stare con gli altri pensate a quanto è grave il fatto che nessuno di noi si possa toccare che nessuno di noi si possa abbracciare che i nostri figli non possano dare un bacio ai propri nonni perché in quel bacio ci potrebbe essere la pericolosità di contagiare il nonno e quindi addirittura di perderlo e purtroppo in alcune famiglie è addirittura successo viviamo un momento dove l'aiuto il supporto psicologico di una persona che è formata per contrastare anche elementi di grande criticità che in ognuno di noi si stanno creando è estremamente importante quello che deve fare la regione toscana è finanziare alcuni supporti psicologici e sfatare anche il mito che se vai dallo psicologo sei uno malato se vai dallo psicologo sei uno che non si potrà mai più riprendere non è assolutamente vero ve lo dice uno che nella propria vita ha fatto un'esperienza di un percorso sia con lo psicologo che con lo psichiatra per un motivo mio personale e quel percorso lì mi ha aiutato perché è un percorso che ti fa vincere alcune paure perché è un percorso che ti sostiene e perché non bisogna vergognarsi nemmeno di dire che si va dallo psicologo perché andare dallo psicologo è come andare dal medico il medico ti prescrive una medicina lo psicologo ti prescrive un percorso dell'anima e vi assicuro che quel percorso dell'anima può non soltanto salvare la tua vita può salvare la vita degli altri ti aiuta a vivere molto meglio direi che è stata una risoluzione portata dalla commissione della terza commissione sanità è stata recepita in consiglio regionale e devo dire che abbiamo cercato di fare un atto che potesse tener conto anche delle esigenze dei medici perché la richiesta di uno psicologo di base e psicologo di cure primarie andrebbe a confliggere eventualmente con quella che è l'attività del medico per cui noi abbiamo specificato che pur essendo necessaria la figura dello psicologo in una maniera più importante debbono mettersi d'accordo i due ordini per poter non essere in conflittualità una mozione condivisa da tutto il consiglio perché purtroppo e dico purtroppo arriva in un momento drammatico perché comunque arriva dopo un anno esatto dall'inizio del primo lockdown e come abbiamo detto e ripetuto tante volte un po tutti in questo anno i minori più piccoli bambini sono stati sicuramente tra le fasce più colpite da questa situazione l'età del presviluppo l'età della preadolescenza l'età in cui i bambini sviluppano non soltanto il le capacità cognitive le capacità l'avvio all'istruzione alla scuola ma anche soprattutto l'avvio alla socialità ed essere privati della socialità all'improvviso da un giorno all'altro è stato senza dubbio un trauma che ha portato a una maggiore richiesta di sostegno anche psicologico e quindi ben venga che la regione vada incontro a questa necessità oggettiva della quale avremmo fatto ben volentieri a meno ma che è un dato di fatto che ci sta lasciando in realità questa pandemia. Abbiamo approvato il bilancio preventivo per il 2021 del bilancio di Artea che ricomprende tutti i fondi europei FEAGA e FEASR. Sono molto importanti perché gestiscono una parte di un settore strategico per la nostra regione di oltre 3 milioni di euro e 137 mila prese in carico di imprese e di pratiche. Adesso siamo nella fase cruciale infatti per il 2021 dovremo ultimare quella che è la gestione e la riscossione e il pagamento della fine fondi di questa fase quindi fino al 2023 come data ultima e cominciare a programmare il 21-27 quindi con prospettive interessanti perché ricordo che Artea non gestisce solo la parte dei fondi agricoli benché preponderante ma anche fondi europei programmi regionali extra agricoltura. Quindi rimane un ente per noi strategico che ancora di più in questa fase dovrà occuparsi di relazionarsi con le aziende e con la regione per far sì che si riescano a spendere come ben fatto fino ad oggi tutti i fondi che arriveranno a questa regione. Siamo di nuovo intervenuti su uno dei temi dove la Lega più si è fatta sentire in Toscana nel corso degli ultimi anni. Banca Etruria. La recente sentenza della Corte di Giustizia europea per quanto riguarda il caso Tercas ha dimostrato che si poteva anzi si doveva fare di più. Utilizzare le risorse del fondo interbancario non costituiva aiuti di Stato. Quindi a seguito di questa sentenza è palese e grave il danno che hanno subito i risparmatori di Banca Etruria per il mancato intervento. Questo non lo possiamo accettare. Noi chiediamo al governo Draghi di attivarsi nei confronti della Commissione europea perché chi ha sbagliato paghi. Ed è tutto. Questa era la nostra ultima intervista. Grazie per la cortese attenzione. Grazie per la visione. Grazie per la visione.